beautiful ecco le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 28 aprile al 4 maggio come sempre su canale 5 brutta sorpresa per fine steffi ecco tutto quello che accadrà nella famosa sopa americana mediaset beautiful ecco le anticipazioni delle puntate della sopa americana di canale 5 in onda dal 28 aprile al 4 maggio brutta sorpresa per fine steffi i due si sono ritrovati sheila improvvisamente in casa e non sanno assolutamente come fare per riuscire a sopportare una situazione del genere alla fine super spaventati e molto impauriti per quanto accaduto decideranno di immobilizzarla e di legarla per evitare di farla scappare via a quel punto dunque decideranno di chiamare la polizia ma prima ancora che arrivi ecco che in casa irrompe bill i due ragazzi credono che tutto è passato e che finalmente possono tirare un sospiro di sollievo ma non sarà così sfortunatamente accadrà qualcosa di totalmente inaspettato che li porterà a fare una mara scoperta oltre che una brutta sorpresa per i due innamorati ecco che cosa scopriranno beautiful anticipazioni dal 28 aprile al 4 maggio brutta sorpresa per fine steffi taylor e brooke hanno finalmente deciso di non farsi più guerra tra di loro per ridge certo non è facile immaginare che possano diventare amiche ma in ogni caso non sembrano volersi odiare poi così tanto come prima ancora sappiamo che katy sta bene e si avvicina sempre di più a carter e le confida il suo passato tornando al dramma che stanno vivendo steffi e finn nel momento in cui arriverà bill per loro non ci sarà più scampo l'uomo non ha assolutamente intenzione di chiamare la polizia ma anzi li minaccerà anche gli dirà infatti che rivelerà a tutti la verità su taylor a meno che non lasceranno andare sheila intanto finn resta praticamente spiazzato dal fatto che taylor ha avuto una notte d'amore proprio con lo spencer una volta che sheila e l'uomo hanno lasciato la casa finn esige delle spiegazioni da taylor a quel punto lei ammetterà di essere stata con lo spencer in un momento di caos nella sua mente nella puntata del 4 maggio infine vedremo che bill fa arrestare sheila ma le promette che la toglierà dai guai lo spencer finge di non sapere nulla sulla carter e parlando con i figli non dirà che c'è stato un ricatto per steffi per colpa di katy poi ancora una volta bill si ritroverà a perdere definitivamente le staffe si scatenerà con tutta la sua ira e a quel punto potrebbe anche cedere facendo qualcosa di veramente pericolo oltre che di clamoroso non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà nel corso delle prossime puntate della famosa soap di canale 5